ciao buongiorno a tutti oggi un video un pochino diverso dal solito una via di mezzo tra casa organizzata e alessia scrap and craft perché ti voglio raccontare come ricevere ancora le notifiche dei nuovi video quindi delle novità dei tuoi canali youtube preferiti allora youtube fino a un pochino di tempo fa mandava una mail mi pare settimanale con il sunto di tutte le novità dei canali a cui avevi di cui aveva cliccato la campanellina questo servizio l'ha sospeso purtroppo io lo amavo molto quindi ho cercato un'alternativa l'ho trovata e ho pensato di parlartene allora apri il canale che preferisci ho aperto il mio vedrai che il link come vedi il link è alla fine ha un codice alfa alfa numerico lo selezioni in blu questo che vedi in blu lo copi e lo incolli in quest'altro link te lo lascio qui sotto in descrizione video alla fine di questo link incolli il codice alfa numerico del canale dai invio ed ecco che ti appare il feed quindi tutte le novità del canale andranno listate verranno listate in questo feed che vi è che verrà letto dal servizio che utilizziamo che si chiama feed rabbit che permette di ricevere via mail le novità di qualsiasi feed quindi che sia youtube blog quello che volete di 10 canali differenti questo gratuitamente poi c'è anche una versione a pagamento per cui i canali diventano infiniti quindi feed infiniti però appunto io non lo uso uso solo la versione gratuita allora questo codice del feed questo link completo si seleziona si copia in questo in questo spazio su feed rabbit si dà i discover questo bottone blu e ti appare il sunto del feed che hai appare il sunto del feed che hai inserito poi dai discover scusa subscribe e inserisci la tua mail la mail dove vuoi ricevere le notifiche non sono un robot invio ed ecco qua che ti appare di nuovo il sunto subscribe di nuovo e ecco qua che c'è tutto l'elenco delle informazioni che riguardano questo feed puoi scegliere se ricevere le mail immediatamente quindi in tempo reale quando ci sono delle novità oppure ehm con un digest digest giornaliero quindi un sunto giornaliero parliamo solo di un canale quindi non di tutti i canali a cui sei iscritto quindi solo del canale che hai inserito su feed rabbit e eh invio di nuovo ed è pronto quindi eh gratis arrivano le notifiche delle novità molto semplice eh direi che ho detto tutto eh ti lascio qui sotto in descrizione video eh tutti i link compreso il link di casa organizzata dove ho scritto tutte quelle cose che dico qua eh in un articolo quindi trovi tutte scritte se hai domande ti aspetto nei commenti spero che ti sia utile ciao grazie a tutti